C'era un uomo mascherato oggi sul parquet del Pala Elettra, non era Zorro, non era Batman, ma le sue performance erano quelle di un supereroe, Alessandro Plotì, grandissima partita, complimenti e grandissima vittoria dell'amatori. Mascherato purtroppo direi perché purtroppo ho questo infortunio che un po' mi penalizza, devo usare per forza la maschera per giocare, però ero carico a mille come tutti i miei compagni perché comunque è una semifinale playoff e non capita tutti i giorni di giocare queste partite. E' tutto l'anno che non aspettiamo altro che questi momenti e quindi è giusto incalanare tutte le energie per queste partite qua. Partita condotta per larghissimi tratti dall'amatori, eccetto un break ad inizio terzo quarto che poteva costare carissimo, cosa è successo? Esatto, noi a volte sacchiamo la spina, abbiamo questi blackout che permettono agli avversari di rientrare, infatti è questo il salto di qualità che dovremmo fare perché sono partite che non puoi avere dei rimpianti dopo, cioè se vai sopra devi comunque cercare di chiudere il prima possibile. Quindi è quello che dobbiamo imparare e ci deve essere di lezione per la gara 2. Tra meno di 48 ore di nuovo in campo sarà più importante recuperare le energie fisiche o quelle mentali? Io direi prima di tutto fisiche perché comunque abbiamo speso tanto, mentalmente come dicevo prima siamo concentrati, abbiamo voglia di andare avanti quindi ci saremo come oggi.